Ciao a tutti, benvenuti a questa puntata. Oggi vi parlo di un'app per WatchOS, si chiama Streamlets, scritto Streamlets. È solo per Apple Watch e permette di ascoltare le radio in streaming. È accessibile a pagamento ma costa solo 99 centesimi e ne vale secondo me sicuramente la pena di acquistarlo. E vediamo come funziona. Apriamo l'app. Apri Streamlets. Ecco qui. La prima pulsante è Favorites, Preferiti. Qui troviamo le stazioni che abbiamo inserito nei preferiti. Ecco, entriamo. Questa è la stazione giornale radio ultima ora e basta fare il doppio tap, docare due volte. Ed ecco che parte lo streaming. Nello streaming abbiamo l'immagine della stazione. Il nome. Che tipo di streaming. Pulsante Stop Playing. Interrompiamo in questo modo la trasmissione. Volume. E il pulsante Remove Station from Favorites. Cioè Rimuovi dei preferiti, che in questo caso la stazione era già presente nei preferiti. Pulsante indietro. Pulsante. Pulsante indietro. Pulsante indietro. Pulsante indietro. Pulsante. Pulsante. Continuiamo. Cerca. Che possiamo cercare qualsiasi stazione. Tapier. Pulsante. Ecco. Tapier. Quindi dobbiamo toccare qui due volte. Tapier. Pulsante. Annulla. Pulsante. E possiamo cercare inserendo il testo in vari modi. Detta. Pulsante. Dettatura. Scrivi a mano. Pulsante. Scrivi a mano. Selezione emoji. Pulsante. Ok. L'emoji ma in questo caso non ci servono. Tastiera continuity. Pulsante. Tastiera continuity. Possiamo utilizzare il nostro iPhone per scrivere sull'Apple Watch. Lingua. Italiano. Possiamo cambiare la lingua. Suggerimenti. Intestazione. Abbiamo dei suggerimenti. Tastiera. Flip type keyboard. Ecco. Flip type keyboard che in questo caso non è installata. Quindi è comunque un altro modo alternativo di scrivere. Pulsante. 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 Apriamo a dettare. Tocchiamo due volte. dettiamo Radio 1. Pulsante indietro. Pulsante indietro. Station. Search. Intestazione. Radio 1. Pulsante. Ok. Quindi possiamo andare su Search. Per cercare. Loading. Pulsante indietro. Loading. Ecco. e abbiamo le stazioni. Pulsante. Tocchiamo le stazioni. Pulsante. Act. Pulsante. Le varie. Ex Cann��도.威 permane. 5-6-K Polsce. Cadiciamo. Tocchiamo le stazioni. Tocchiamo le stazioni. Tag e generi. Chi sono i generi delle stazioni? Possiamo cercare anche in questo modo. Entriamo. Qui stiamo mettendo un po' a caricare. Inizio di carica. Ecco, ok. Ecco le varie tag. Poi ci dice anche il numero di stazioni che sono disponibili con questo tag. Andiamo indietro. Vediamo countries. Possiamo anche selezionare in base allo stato. Quindi entriamo. Aspettiamo che carica la lista degli stati. Elenco. Loading. 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 E' lì sì. Ci metto un po'. Pulsante in count loading. Loading. E' sempre loading. Penso di sì. Penso sia un problema Loading. Di server perché quando ho provato prima sono usciti tutti tranquillamente l'elenco dei vari stati compresa l'italia quindi probabilmente è un problema di server abbiamo le informazioni sull'app c'è il sito del sviluppatore ecco quindi c'è problemi di streaming premio questo pulsante vediamo un po vediamo un po forse ratti vediamo se così funziona anche poi l'elenco negli stati proviamo ecco adesso vediamo se ci carica in questo caso sono usciti gli stati quindi se avete problemi andate in about toccate su server update e risolvete il problema ecco i vari stati cerchiamo l'italia ce ne sono tanti 1058 stazioni vediamo entriamo ed ecco le varie stazioni trattino basso 100 suoni 16 radio 16 radio 16 radio 128 2.0 7080 disco funk modern soul e buggy 78 70 90 dance radio ecco 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 vedete che dopo il luma della stazione ci dice anche la qualità dello streaming della trasmissione in questo caso è il 96 il formato è il 96k AC+. proviamo ad entrare ecco ecco è partita la sezione facciamo stop playing vediamo ecco qui abbiamo volume ecco save as favorite quindi il pulsante è cambiato non è più aggiunge i preferiti è già aggiunta ma è save favorite ora proviamo a salvarla nei preferiti ecco il pulsante è cambiato adesso remove station from favorites quindi da save il pulsante è cambiato adesso la eliminiamo dai preferiti ed ecco che ancora il pulsante è cambiato ok torniamo indietro ecco e questa è l'app streamlets interessante molto semplice se vi parla in inglese quando aprite l'applicazione per risolvere il problema dovete aggiungere la lingua italiana al rotore nelle lingue in impostazione accessibilità voice over è il linguerotore e aggiungete appunto l'italiano autenticazione applicazione in questo caso poi dopo aver fatto questa operazione di aggiungere l'italiano l'app si potrà utilizzare con la voce di Siri in italiano come avete sentito prima quindi questo succede non solo con questa app ma con anche tutte le altre app che sono solo in inglese quindi per risolvere il problema dovete aggiungere e selezionare poi la rotore la lingua italiana ecco direi che possiamo concludere qui spero che questo video sia stato interessante ringrazio come sempre chi mi segue su youtube come vi ricordo il gruppo su telegram apple voice over e il club apple voice over su clubhouse dove potete trovare anche il replay delle conferenze che abbiamo già le conferenze delle presenti conferenze che facciamo ogni mese e anche quando ci sono particolari eventi le registrazioni le trovate tutte sul club apple voice over su clubhouse grazie a tutti ancora chi mi segue vi do appuntamento alla prossima ciao a tutti a presto ciao a tutti